Il Partito Democratico contesta il lavoro fatto dalla Giunta regionale per il Cura Abruzzo 1 e 2. Questa mattina in conferenza stampa Paolucci avete detto dei 200 milioni disponibili, ne sono stati erogati appena 51. Esattamente, il 25% a cui andrebbero sottratti i cosiddetti fondi rotativi, ovvero i fondi a prestito. Effettivamente alle imprese e alle famiglie sono arrivati appena 20 milioni di euro circa. Per quanto riguarda le imprese, 6 milioni di due banti che ammontavano a 70 milioni, quindi meno del 10%. Una denuncia forte perché noi periodicamente facciamo una sorta di tagliando al Cura Abruzzo 1 e 2. Purtroppo le denunce che già lanciavamo un anno fa all'atto dell'approvazione si sono verificate oltre addirittura alle nostre aspettative corrette. Cioè le procedure di norma, provvedimenti amministrativi e burocratiche che avevano scelto purtroppo rallentavano il percorso di erogazione. La verità è che le risorse per le famiglie e soprattutto per le imprese sono rimaste al palo dopo un anno di denunce e promesse. Hanno utilizzato queste norme esclusivamente per fare politica nazionale. Il presidente Marsiglio si è messo a disposizione del suo partito per aprire sempre una dialettica, un confronto critico col governo. Ma per quanto riguarda la presidenza, il ruolo di presidente dell'Abruzzo e degli abruzzesi, la sua giunta è rimasta davvero ferma. Tante categorie, imprese, famiglie, consorsi, casi di riposo e comune attendono da mesi i ristori promessi dalla regione. Noi abbiamo avuto un atteggiamento molto collaborativo in sede di approvazione di queste due leggi, cura Abruzzo 1 e cura Abruzzo 2, ma abbiamo criticato il merito e soprattutto le procedure, tant'è che dopo tanti mesi una piccolissima parte dei 200 milioni di euro messi in campo con queste due leggi sono arrivate a destinazione. E poi tanta parte sono fondi rotativi, cioè sono prestiti momentanei che devono essere restituiti alla regione nel più breve tempo possibile. Davvero un tradimento forte da parte di questa giunta regionale verso l'economia, verso i comuni, verso le imprese, verso le case di riposo di questa regione. Voglio fare alcuni esempi. I bagnatori stanno attendendo ancora il milione di euro promesso e normato per quanto riguarda i danni delle mareggiate del novembre 2019. I ristoratori hanno chiesto tanto, c'è stato un tavolo importante proprio qui in regione, nulla delle loro richieste è stato raccolto e accolto da parte di questa giunta regionale. Si sono fermati solo ad un grande comizio contro il governo nazionale, così come le case di riposo. Stanno attendendo sia i 3 milioni a fondo perduto e sia i 4 milioni di fondi rotativi. E lì ci sono operatori che stanno soffrendo e non ricevono stipendi da mesi. E parliamo di un settore molto molto sensibile dovuto ovviamente alla pandemia. Grazie a tutti i miei.